spallaccio austriaco degli anni 70 80 è uno spallaccio che ricorda nella forma e negli attacchi i modelli al ice americani anche per il tipo di moschettoni di regolazione comunque un ottimo spallaccio in cordura l'interno è imbottito come possiamo vedere è ben imbottito con nylon e la parte superiore sembra cordura cordura in colore feldgrau grigio verde davanti al doppio attacco regolabile in entrambi i casi questo tipo di spallaccio adatto a cinturoni con fori poiché a questo moschettone di facile applicazione allo stesso tipo di attacchi regolabili in altezza e gli stessi tipi di moschettoni agganciabili sul cinturone a fori sul davanti abbiamo due moschettoni ulteriori per agganciare materiali vari o eventuali zaini che verrebbero messi sul retro a seconda che non si vuole utilizzare la taglia è unica e regolabile ovviamente inoltre qui abbiamo due passanti su entrambi gli spallacci anteriori per fissare eventuali materiali un'ottima costruzione cuciture ben fatte molto molto solide grazie grazie grazie